Allora Gianni c'eravamo visti sul Bondone lo scorso ottobre, nel frattempo qualcosa è cambiato. Lo scorso a quest'anno è cambiato molto direi perché adesso stiamo aspettando tutti il rientro di Chico. I tempi sono rallentati un po' dalla pandemia, un po' dalla burocrazia che inevitabilmente mette di ritardi su quello che riguarda la Convenzione di Tralburgo. Comunque come l'anno scorso siamo qui anche quest'anno per partecipare con Chico a questo Giro d'Italia e dedicargli chiaramente in una maniera simbolica il suo rientro in Italia che avvenga nei tempi più brevi perché ormai fine maggio, i primi di giugno, sono la scadenza sia del Giro d'Italia che speriamo anche dell'incubo di Chico Forti. Ecco vediamo questo cartello strada di Chico Forti, a chi è venuta questa propria? A tutto il gruppo diciamo perché tutto sommato la strada di Forti non è venuta del Forti di Chico perché la prossima volta, speriamo che sia qua con noi, dedichiamo lui questa strada che è ancora, porta il nome dalla Prima Guerra Mondiale e questa è una struttura di allora che nonno di Chico ha combattuto con la guerra prima da una parte e poi dall'altra, quindi porta il nome del nonno Chico. Grazie mille, buona tappa.